Un saluto a tutti da parte di delucaepeli.it, io sono Giorgio, questa è una mini guida per poter inserire il codice coupon all'interno del sito. Allora, per prima cosa andiamo a fare il login, io già ho scritto, ecco il login che avete ricevuto via mail, clicchiamo sul login e andiamo ad acquistare una borsa, eccola, che più ci piace, io adesso ne prendo una a caso, prendo questa. Vi ricordo che in qualsiasi momento potete vedere il carrello in questo modulo qua, quando lo aggiungete. Comunque, vado ad aggiungere questa borsa. Nel carrello, precisamente qua, se hai un codice coupon, inseriscelo qui sotto, vado a scrivere promozione carta e clicco su invia. Come vedete, il 10% è stato fatto, ecco, di sconto. E poi si procede con l'acquisto andando su cassa e scegliendo il metodo di pagamento. Spero che il video sia stato chiaro e un saluto da De Luca e Pelli. Ciao.